A livello centrale c'è stato un accordo tra il commissario governativo per la vaccinazione, che è il generale Figliollo, con il CONI, con Gianni Malagò, e con l'Associazione dei Medici Sportivi. Noi faremo a Benevento, come in ognuno di tutte le province italiane, un punto nel quale saranno vaccinati tutti quelli che non sono stati chiamati prima di quel momento. Quindi sarà un grosso, grossissimo movimento ad aduandum di quello che sta facendo normalmente la ASL e le altre istituzioni. Io da qua voglio lanciare un appello ai nostri atleti più rappresentativi, perché vengono ad invitare e ad accogliere la popolazione che si riverserà, probabilmente nel pala tedeschi, che si riverserà per poter vaccinarsi tutta. Sarà un momento molto delicato, ma probabilmente sarà un momento decisivo. Io penso che sia verso maggio, anche alla fine di maggio, ho avuto la disponibilità totale di tutti i medici sportivi, che saranno tutti a disposizione, gratis della popolazione. Ho avuto la disponibilità anche di altri enti, faccio uno per tutti, l'US Acre, che mi metterà a disposizione del personale. Così noi riusciremo effettivamente a dare la risposta quella giusta. Noi questa è una battaglia, è una sfida che dobbiamo vincere e lo sport è il mondo delle sfide. Noi dobbiamo accettare questa sfida, la dobbiamo organizzare, perché alla fine vinceremo.